Amici di Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì. Iniziamo come sempre dall'Europa dove la situazione è un po' più dinamica alle medie e alte latitudini, mentre a latitudini mediterranee il tempo nel complesso resta bello. Come temperature vi segnalo valori piuttosto bassi sui settori orientali del continente, come vedete spesso al di sotto dello zero. Ora passiamo all'Italia dove per la verità la situazione resta relativamente tranquilla, ancora alta pressione, solo qualche nuvolette di passaggio e nebbie in pianura padano. Ora entriamo ancora più nel dettaglio come temperature, valori stazionari, di notte siamo per lo più al di sopra dello zero nelle principali località e di giorno temperature ancora molto miti, le massime infatti al centro-sud arrivano anche a toccare i 15 gradi. Ora andiamo a vedere la situazione del cielo, ebbene sul nord Italia come vi dicevo ben poco da segnalare, se non le nebbie che tornano protagoniste e sempre più fitte giorno dopo giorno in pianura padana. Nell'Italia centrale situazione buona, qualche nuvola potrebbe insistere qua e là, ma solo nelle ore centrali del giorno nelle zone interne, quindi non abbiamo neanche indicato, e infine per il sud Italia, tempo anche qua nel complesso bello, cielo sereno, poco nuvoloso e clima anche, come dicevamo, mite. Con questo è tutto, ma rimanete con noi sempre su trebimeteo.com